Ciao a tutti ragazzi, sono Giovanni, sempre io. Oggi devo ringraziare di una grande cosa. Allora, siamo arrivati agli 80 iscritti! Allora, sentite, il video di oggi, quello là di Davide che era già mememe, non so perché non si è pubblicato, mo li provo a metterlo, dopo questo qui, che questo praticamente sarebbe speciale, 80 iscritti. Vi ringrazio tanto di cuore, non so come ringraziarvi tantissimo, cioè tantissimo, grazie ragazzi, vi ringrazio. Cioè, 80 iscritti, sto record, faccio youtuber da 5 mesi e, cioè ragazzi, siamo arrivati a sto punto, Cioè, non lo so, boh ragazzi, siamo arrivati a sto punto, ma siamo troppo forti. Ok ragazzi, io vi saluto, mo provo a rimettere quel video, che non so perché non si è fatto, non lo so ragazzi, non mi hanno, cioè l'altra volta, col video, i belli contro serie Ned, mi avevano tirato, mentre mo non so perché, fosse un problema di registrazione, mo provo a ripubblicarlo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un piace, iscrivetevi al canale, ciao!